Ora era diventato il centro fisso di quella ruota della sfortuna che girava. Il mondo gli girava intorno, lasciandolo miracolosamente illiso. Il Kruppi aveva raggiunto il suo obiettivo. Non sentiva più il rumore della pallina. Hai già trovato un lavoro? No. Ho io qualcosa per te. Conosci il Golden Lion Casino? Ecco il vostro nuovo Kruppi, grazie. I soliti ignoti. Loro non conoscevano Jack, ma lui conosceva loro. Buonasera, signore e signori. Fu investito da un'ondata di euforia. Era di nuovo drogato. Fate il vostro gioco, prego, nel vedere la gente perdere. Sei ubriaco? È possibile. Questo cazzo di lavoro ti sta rovinando. Voglio vivere con uno scrittore, non con un fottuto Kruppiè. Conosco delle persone. Hanno intenzione di rapinare il Golden Lion. Vedrai, lascerò presto il casino, te lo prometto. Davvero? Entro un mese.